30 Agosto Santi Felice e Adauto Le più sicure notizie sui Santi Felice e Adauto provengono da un karma di San D'Amaso che ci dice solo che Felice e Adauto erano fratelli e subirono il martirio. Probabilmente ciò accade sotto Diocleziano ed essi furono sepolti in una cripta del cimitero di Comodilla presso San Paolo fuori le mura. Tale cripta, trasformata in basilica è stata restaurata e possiede uno dei più antichi e freschi polo cristiani nei quali i due martiri sono insieme i Santissimi Pietro, Paolo e Stefano. Secondo una passia del VII secolo, invece mentre il presbitero Felice veniva condotto a supplizio uno sconosciuto si presentò dichiarando di volerne condividere la sorte. I due vennero decapitati e poiché il nome dello sconosciuto rimase ignoto fu chiamato Adauctus. Aggiunto Da cui ad auto